La nazionale di Fioretto Maschile, campione del mondo in carica, inizia nel migliore dei modi il 2017 e mette a segno una straordinaria impresa. E infatti medaglia d'oro nella quarta tappa di Coppa del Mondo a squadre, al Challenge International de Paris in Francia. In pedana naturalmente saliva anche il campione olimpico individuale Daniele Garozzo, che è stato grande protagonista della giornata azzurra, insieme a Giorgio Avola, Alessio Foconi e Lorenzonista. Il cammino del fiorettista acese e dei suoi compagni di nazionale è cominciato con la vittoria convincente, immattinata nel tabellone dei 16, per 45-32 contro Hong Kong. Successivamente il trionfo per 45-37 contro la Corea del Sud e i quarti. Proprio lo schermidore Teneo ha poi spalancato le porte della finale all'Italia, con la stoccata del 45-44 nella semifinale contro gli USA. Il capolavoro azzurro si è però completato in finale con Garozzo e compagni, autore del prodigioso successo sui padroni di Casa della Francia, con il netto 45-21 che ha regalato la medaglia d'oro all'Italia. L'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle rimedia così, nel migliore dei modi, alla prova individuale del giorno prima, in cui non era riuscito ad esprimere le proprie reali potenzialità. È stata una bellissima giornata, ha dichiarato poi Daniele Garozzo, culminata con una vittoria voluta ed ottenuta da una squadra composta da 13 giovani ma determinatissimi. Sono felice anche perché ho potuto riscattare una prova individuale pietosa come quella di ieri, ma bisogna essere subito bravi a reagire ed è stato quello che ho voluto fare oggi.